La marca temporale permette di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, attestando il preciso momento temporale in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Garantisce la validità nel tempo del documento firmato digitalmente su cui è apposta la marcatura, poiché fa sì che la firma digitale risulti sempre e comunque valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso. In caso di prima marcatura di un documento con ArubaSign, procedi prima alla configurazione di un tuo account di marca temporale. Vediamo come. Avvia il software ArubaSign, apri il menu Funzionalità e seleziona la voce Marca. Apri la scheda Marca e clicca su Configura Marca temporale. Dal menu di sinistra seleziona la voce TSA Marca temporale. Da qui il campo Indirizzo server è già automaticamente preimpostato. Ti basterà inserire nei rispettivi campi Account TSA e Password le tue credenziali ricevute al momento dell'attivazione del servizio di marcatura temporale. Infine, clicca su Salva. Grazie. 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 Grazie.